Ben trovati, l'edizione 2024 del Salone Transpotech si avvicina e Iveco sarà presente con uno stand di 2000 metri quadrati per il lancio italiano della sua nuova gamma. Una gamma di veicoli leggeri, medi e pesanti, completamente rinnovata, incentrata sulle esigenze dei clienti, produttività, esperienza di guida, sostenibilità e connettività. Troverete sul nostro stand una line-up all'avanguardia, basata su un approccio multitecnologico e integrata da servizi per offrire delle soluzioni di mobilità complete. Venite a visitarci per scoprire i nuovi veicoli accompagnati dai nostri esperti di prodotto e novità di quest'anno per lasciare la vostra impronta tangibile sulla strada del cambiamento. Vi aspettiamo numerosi dall'8 all'11 maggio al Padiglione 24 di Fiera Milano Rock. Grazie! 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 Grazie!